Allora, all'inizio lo sono trovato benissimo sulla città, anche i ragazzi sono bravi, sono simpatici tutti, già conosciuti tutti, quindi mi sono trovato benissimo qui. Sul primo giorno è difficile che silenzio una, due o due mesi in vacanze, quindi all'inizio è così, dolore, però è normale, è normale. Ho visto che c'è stata subito la volontà da parte di tutti i ragazzi di conoscerci l'un con l'altro, di cercare di fare l'gruppo il prima possibile, quindi questo è un buon segnale. Per quanto riguarda il livello tecnico, tattico e la scuola è ancora un po' presto, abbiamo fatto due allenamenti, quindi abbiamo ancora tanto a lavorare, però vedo che c'è molta voglia e molta propensione a voler far bene e a migliorare l'allenamento dopo allenamento. Il mister affine l'allenamento è venuto là con una scheda chiedendoci il livello di stanchezza. Io ho cercato di tenere la bassa per far vedere che stavo bene. No, a parte questo sto bene, dai, mi sono allenato, nonostante abbiamo avuto delle vacanze lunghe, ho cercato di tenermi in forma per cercare di presentarmi recentemente a questo inizio preparazione. Ho visto che è una società seria che vuole crescere tanto, hanno fatto di tutto per dare le condizioni giuste per noi giocatori, quindi fino adesso non manca niente, è una società seria che cerca di arrivare quest'anno, se possibile, in Serie A. Grazie. 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 Grazie.